Palazzolo Acredi, i carabinieri rinvengono otto bombe a mano, ad aula 900 munizioni della seconda guerra mondiale. I militari dell'arma della stazione di Palazzolo Acredi, coadjuvati dal personale specializzato del nucleo artificiale del comando provinciale di Catania, hanno effettuato nei giorni scorsi una operazione di rastrellamento nelle aree rurali del centro montano. L'esigenza di effettuare l'operazione era collegata alla necessità di rinvenire armi e munizioni, molto spesso asportate nel corso di furti in abitazione o per altre attività delittuose. Infatti il servizio effettuato con l'impiego di una decina di uomini in possesso di specifica e qualificata preparazione tecnico-tattica capaci di muoversi e operare in aree rurali e montane è stato particolarmente futtuoso. A seguito di una segnalazione da parte di un cittadino incontrato a fondo di Palazzolo da Crede hanno rinvenuto otto bombe a mano della Seconda Guerra Mondiale in pessimo stato di conservazione. Il personale specializzato del nucleo artificiale del comando provinciale di Catania, intervenuto sul luogo, ha fatto brillare gli ordigni. Nel medesimo contesto i militari della stazione di Avola hanno fatto un importante rinvenimento all'interno di un terreno rinvenuto in un casolare diroccato incontrato a Faldino, oltre 900 munizioni calibro 6,5 del 1934. Le cartugie in pessimo stato di conservazione si ritiene siano state abbandonate in quel luogo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il munizionamento è stato sequestrato e anche in questo caso le armi residuate bellici in pessime condizioni d'uso sono state prelevate e custodite in idonei locali per gli accertamenti del caso in attesa che venga disposta la distruzione da parte dell'autorità giudiziaria.